Vincenzo Mollica racconta Grande artista foto, e Mina Credit, diritti d'autore Rai Vincenzo Mollica Prova A parlare di Mina e a ripercorrere i 60 anni della sua carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere, in una puntata speciale intitolata, Mina l'aliena, che andrà in onda su Rai 1 domenica 1 aprile alle 19.10, realizzata con la collaborazione tra Rai 1 e TG1, con emozionanti contributi e video di repertorio L'occasione è data da un triplice anniversario, il settantottesimo compleanno che Mina ha festeggiato lo scorso 25 marzo, ma anche i suoi 60 anni di carriera e i 40 anni di ritiro dalle scene Vincenzo Mollica ripercorrerà e racconterà l'unicità di questa straordinaria carriera di un artista fuori dall'ordinario al punto di essere considerata un'aliena per unicità, per grandezza e per atipicità Un ritratto a tutto tondo che partirà dalla prima uscita televisiva del 1958 e che tramite tutte le interviste di Mollica realizzate negli anni a seguire e di tutte le immagini di repertorio custodite negli archivi Rai arriverà fino all'ultimo lavoro di Nina, Maeba Da qui verrà proposto in anteprima il nuovo video realizzato proprio per la title Trakna e Ba Trakna e Ba